3 è il numero perfetto! 3 fattorie in 3 paesi lontani sono meglio di una e 3 diverse modalità di gioco sono ancora meglio! In la mia prima fattoria dovrai ereditare una fattoria piena di debiti appartenuta a tuo nonno. Tocca a te adesso renderla redditizia e ripagare il prestito. Questa modalità ti insegnerà tutte le tecniche base dell'agricoltura moderna. Grazie a obiettivi dettagliati e suggerimenti utili, imparerai passo dopo passo come usare macchinari agricoli, coltivare prodotti, creare energia sostenibile e tanto altro. È un'utile introduzione alla simulazione agricola che ti fornirà le basi per gestire una fattoria virtuale tutta tua. Le sfide di coltivazione sono scenari realistici in cui dovrai affrontare situazioni estreme e pericolose. Usando risorse predefinite dovrai salvare le tue colture da un incendio, sostenere la fattoria durante una grave siccità, fronteggiare un'invasione di locuste e altro ancora. Ognuno di questi 20 scenari metterà alla prova le tue abilità agricole attraverso una serie di incarichi obbligatori o facoltativi della durata di un'ora. Sfide brevi ma molto intense, perfette per quando hai poco tempo da dedicare al gioco. La modalità coltivazione libera ti offre una completa libertà di gioco. Imposta i parametri del gioco e gestisci la fattoria a modo tuo. Avrai a disposizione per l'acquisto tutti i macchinari e tutte le strutture sin dall'inizio. Il tuo obiettivo sarà costruire un impero agricolo globale, senza alcun aiuto. Come nella vita reale, il tuo successo dipenderà dalla tua competenza e dalla tua capacità decisionale. Ma non abbiamo dubbi, saprai cavartela. Tre modalità, tre diverse sfaccettature del mondo agricolo. Quale sarà la tua prima scelta? Preordina subito e ottieni lo scenario della Germania. Disponibile dal 13 marzo 2018. Grazie per la visione!